Una serata a Roma all'insegna dell'eccellenza, questa volta Palazzo Rospigliosi e di scena alla Puglia. E allora intanto chiamiamo in causa questa vetrina e spieghiamo perché proprio a Roma con i consorsi di questi vini meravigliosi. Un re per tutti, il Nero di Troia, ma a seguire è un consorzio che ha tante eccellenze DOC e DOCG. Un consorzio dei vini DOC a Sè del Monte appunto che nasce dalla volontà di alcuni imprenditori e agricoltori che hanno la consapevolezza di avere per sé un territorio fantastico dominato da questo antico maniero appunto a Sè del Monte, epoca medioevo, creato da Federico II di Svevia che è una cultura normanno-sveva, una cultura basata sulle regole chiare e precise. Ed è questo lo spirito che ha spinto questi produttori, questo gruppo di produttori, di basare la crescita di questa DOC su dei principi chiari, trasparenti, seri, basandosi in un territorio fantastico, su una storia splendida e sull'esperienza di un gruppo di uomini che hanno preceduto questa generazione. Oggi abbiamo deciso di eleggere il Nero di Troia, uno dei vitini storici del nostro territorio, quale ambasciatore di questa DOC ed essere il protagonista con altri prodotti della nostra terra di un percorsio che ha inizio oggi qui a Roma e qui a Roma vogliamo presentare tutto un percorso che si svolgerà nell'anno 2015, nel prossimo anno a venire, dove cercheremo con dei documenti scientifici, con delle presentazioni importanti al pubblico, coinvolgendo i giovani, di creare un'attenzione particolare su un vitigno antichissimo che rilancia la storia della Puglia, una regione ormai che è la ribalta della vitivinicoltura nazionale e internazionale, quindi rilancia un antico vitigno in un futuro certo e bello. Allora diciamo ai nostri amici che ci ascoltano e ci vedono in quale zona regale di Puglia siamo, andiamo proprio a rappresentarla geograficamente. Siamo nella zona nord-occidentale, quindi sulla murgia barese, dai 300 ai 500 metri sul livello del mare, proprio ai piedi di Castel del Monte, quindi un territorio roccioso, calcario, dove il Nero di Troia, proprio lì, tanti migliaia di anni fa, si è insediato ed è proprio lì, grazie a un terroir perfetto, un perfetto equilibrio tra territorio e vitigno, oggi esprime al meglio le sue potenzialità. E possiamo ben dire che il vitigno in questo territorio oggi esprime un'eccellenza importante, riconosciuta, ecco, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Presidente, allora, visto che ci affacciamo oramai al 2015, tutti hanno negli occhi e nelle orecchie questa Expo 2015. Allora, possiamo considerare questa serata come pista di decollo verso un Expo dove appunto la Puglia sarà rappresentata al meglio e in particolare il Consorzio Castel del Monte vedrà sicuramente integrate le sue risorse. E come? Assolutamente sì, una delle tappe di questo percorso è proprio Expo. Non possiamo perdere un'occasione così importante, con l'Expo, quindi di accogliere e di ricevere milioni e milioni di visitatori a cui presentare le nostre eccellenze. E tra queste sicuramente ci sarà il Nero di Troia con la Doccas del Monte. Grazie e adesso aspettiamo lo chef perché l'eccellenza è anche l'abbinamento di un piatto perfetto con un vino perfetto. Grazie.